Enesimo incagliamento al porto rifugio di Gela a causa dei fondali insabbiati. Sono passati tre giorni da quanto accaduto ad un'imbarcazione battente bandiera francese che l'identico copione si è ripetuto ieri. Vittima una barca a vela di 12 metri australiana con otto persone a bordo, quattro adulti ed altrettanti ragazzi. Sul posto si sono recati gli uomini della guardia costiera e quelli della squadra nautica che hanno trasbordato gli occupanti del natante. Le otto persone hanno trascorso la notte all'hotel sole. Abbiamo chiesto ai nostri consiglieri comunali, al nostro sindaco, al nostro onorevole di venire a vedere quello dello scempio che c'è all'interno del porto. La nostra rabbia è noi che siamo operatori portuali sempre presenti all'interno del porto. Non ne possiamo più. Siamo al collasso, chiediamo a questo punto di chiudere letteralmente il porto in modo che non succeda più quello che sta succedendo oggi e che è successo il 15 agosto di qualche giorno fa. Quella barca francese che è entrata e ha avuto i suoi problemi e si è arenata all'interno del porto. Sono passati quasi due mesi dall'ultimo incontro che si è svolto a Palermo in merito agli interventi da realizzare al porto per il dragaggio dei fondali. Siamo al 19 agosto e tutto è rimasto com'era. Fiumi di parole, solo parole. Ma si aspetta la tragedia per intervenire definitivamente? Qui il porto di Gelo è diventato una vera e propria trappola per i diportisti, una trappola a tutti gli effetti. I diportisti poverini quando c'è il mare forte cercano rifugio per poter ripararsi dal vento, dal mare forte, entrando in un porto dove ignari trovano una vera e propria trappola. Io mi rivolgo adesso pure alla Capitaneria di Porto che faccia qualcosa, che emetta anche una chiusura totale di questo porto. A questo punto è meglio che sia completamente chiuso, che non è limitato e quindi che dia la possibilità a questi poveri cristi, li chiamerei, di arenarsi in questo modo. Non oso neanche immaginare il panico che in questo momento provano quelle persone su quella barca. È una barca che batte bandiera australiana. Gela è sempre nominata per cose brutte, mai per una cosa positiva, sempre cose negative. C'è in tutto il mondo, in tutta Europa. Stiamo parlando dell'Europa, prima la Francia, la Germania e adesso anche l'Australia. Siamo in mezzo proprio non so che cosa e vorrei anche chiedere ai nostri politici ma dove siete? Perché non vi fate vedere? Scendete in piazza solo per i voti, scendete al porto a vedere che cosa succede qui in mezzo a noi diportisti e quello che sta accadendo. Polizia, forze dell'ordine a rischiare la vita all'imboccatura del porto vicino agli scogli. Venite!